Un saluto da Gianluca Pota e ci troviamo in piazza Vambitelli a Caserta dove si è appena conclusa in sala consigliare la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla scuola di cavalleria che è rimasta qui a Caserta e faceva parte della scuola truppe corazzate presso la caserma dove attualmente c'è la brigata bersaglieri garibaldi. La scuola di cavalleria dell'esercito è rimasta a Caserta dal 51 al 91, quindi 40 anni, ora a sede in Puglia e oggi c'è qui il generale Dei, c'è il sindaco di Caserta per il taglio del nastro simbolico per quanto riguarda il conferimento della cittadinanza onoraria e anche per inaugurare quello che è, intanto qui c'è il taglio del nastro.